Ciao, buonasera a tutti, Fabrizio, oggi sabato 10 agosto qui a Casare Marino con le Corvino abbiamo avuto come animazione al matrimonio, matrimonio travolgente quando io sono il cognato dello sposo, quando mio cognato mi ha detto guarda abbiamo un intrattenitore, scusate il termine, ho pensato un rompipalle di matrimonio ho fatti tanti, ragazzi è stata un'esperienza entusiasmante sotto tutti i punti di vista, eravamo tantissimi giovani, cugini, abbiamo parlato tutti quanti fino a qualche minuto fa, un'esperienza del genere mai provata, tu quando stai a un matrimonio c'è sempre quella persona che ti viene a rompere le scatole, che non c'è il momento per fare due chiacchiere, per berti un bicchiere di vino in tranquillità, oggi tutto questo non è successo. Se dovete chiamare qualcuno, io ripeto, avevo tantissimi pregiudizi, oggi non è che sono caduti, cioè veramente abbiamo girato a 360 gradi il piatto, il bicchiere, come lo volete chiamare, un ragazzo squisito con il suo staff, nei momenti giusti, abbiamo pranzato tranquillamente, abbiamo colloquiato, cosa importante, e quando è stato il momento di entrare in pista, la cosa bella è stata che non c'è stato bisogno di chiamarle persone, perché tu quando hai avuto modo di parlare, di stare bene con gli amici, anche con persone che non vediamo tanto tempo, poi si crea quel clima, con l'atmosfera giusta, con la persona, che tu in pista ci vai da solo. E ripeto, ho 45 anni, un anno solamente vi dico, ho fatto 8 matrimoni, tra cui anche il mio, un'esperienza così non l'ho mai vissuta, veramente Francesco e il suo staff hanno reso questa giornata non lieta di più, sotto tutti i punti di vista, sono le 21 e qualcosa, stiamo per andare via, siamo rimasti in pochi, però ho dovuto parlare con cugini, zii, parenti, genitori, dello sposo, della sposa, sono tutti entusiasti, tutti guardi col pregiudizio e invece ce ne andiamo con la bocca, col pensiero felice, perché abbiamo passato una giornata indimenticabile, che sicuramente il matrimonio oggi di mio cognato e di mia cognata, ve l'ha ricordata per tanti anni, un menù squisito, ma un intrattenimento e fidatevi, di me ne ho fatti tanti, così non l'ho visto mai. Un saluto a tutti!